Zanzare Ci sono circa 3.000 tipi diversi di zanzare, ma ci sono due zanzare edes piuttosto comuni. Si tratta della edes egipti e della edes albopictus, ed entrambe possono trasmettere molti virus. Le edes egipti pungono più frequentemente durante il giorno e di notte e si trovano sotto i letti e praticamente ovunque in casa. Pare che adorino ronzare intorno alle persone. Gli entomologi credono che le zanzare non si spostino di molto, forse 400 metri o pochi chilometri, ma le persone di fatto trasportano gli organismi patogeni, quindi in realtà la malattia non viene diffusa solo dalla zanzara, ma anche dalle persone. Esistono vari attrattivi e il principale si trova proprio nel vostro respiro, l'anidride carbonica. L'anidride carbonica è percepibile a lunga distanza e poi, quando la zanzara si avvicina, forse il colore dei vostri vestiti, l'acido lattico della pelle o la temperatura del vostro corpo, qualunque di questi fattori può rendervi più attraenti della persona di fianco a voi. Le zanzare sono gli animali più mortali al mondo e sono vettori di molte malattie pericolose e letali. Tra le più comuni ci sono malaria, dengue, chikungunya, zika e febbre gialla. Il miglior modo per proteggersi da qualsiasi virus è prevenire le punture. L'OMS e i CDC raccomandano vivamente di utilizzare repellenti personali contenenti DIT, 3-8 di Olo o Picaridin.